Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente di Intorni Show. Quest'oggi vi racconto la storia di Rabat, l'attuale capitale del Marocco e una città che, anche se, ve lo dico già, non è che abbia mai avuto un ruolo così da protagonista, salvo di recente, ha avuto anche una parentesi molto interessante e particolare, perché qui venne formata una piccola, ma molto interessante, Repubblica Corsara. Detto ciò, prima di iniziare appunto a raccontarvi questa storia, vi invito come al solito a iscrivervi al canale Telegram di Medio Oriente di Intorni, ma ancora di più al crowdfunding di Medio Oriente di Intorni, perché lì troverete tante cose interessanti. E vi faccio un esempio, io in questo periodo vi racconto la storia di Fess, che potete andare a rivedere, la storia di McNess e oggi vi racconto la storia di Rabat, le tre capitali imperiali, le tre capitali appunto della storia marocchina, ma ne manca una molto importante, ovvero Marrakesh, che è appunto all'interno del crowdfunding. Nel crowdfunding c'è un'anteprima legata appunto a tre città marocchine, che sono Marrakesh, Esawir e Casablanca, nel quale vi racconto lì la storia, che altrimenti uscirà anche qui, ma fra molto molto più tempo. Oltre a ciò, sostenere il crowdfunding serve anche a sostenere ovviamente il progetto e a godersi tante piccole ricompense, oltre anche a quest'anteprima, che è tutta in una cosa un po' particolare, magari adesso state vedendo appunto le immagini. Detto ciò, vi invito veramente, perché nel caso di questo andare bene diventerà un Patreon, ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito appunto raccontando la storia di Rabat. Storia che in realtà inizia veramente tanto tempo fa. E in questo caso è anche giusto dire che Rabat esiste da un tempo in memore, perché non si sa con esattezza chi l'ha fondata. Mi spiego un po' meglio. Sono stati ritrovati in questa zona dei resti, anzi, dei manufatti scritti in neopunico, che dovrebbe essere la lingua dei fenici e dei cartaginesi, i quali oggettivamente navigavano su queste coste, anche perché, come appunto ho raccontato nel video, nel podcast, eccetera, di Casablanca e di Essauire, che sono entrambe sulla costa atlantica, si erano spinti persino a Essauire, che appunto nella cartina, lo starete vedendo, è decisamente più a sud. E dunque è probabile che l'abbiano fondata i fenici, però, oltre a questo, non ci sono particolari testimonianze, e quindi, oggettivamente, dobbiamo dire che i primi a renderla famosa, quantomeno, saranno gli Amasier, non uso il termine berbero, ma l'ho già detto tante volte, del regno di Mauritania. Questo regno era l'antico regno del Marocco, diciamo così, nel senso che all'epoca dei Romani non c'era il regno del Marocco, ma c'era il regno di Mauritania, e vi ho parlato dei Romani perché ad un certo punto se li inglobarono, a partire dal primo secolo dopo Cristo. E nello specifico questo territorio dove attualmente sorge Rabat aveva intanto un altro nome, ovvero Sala Colonia, e oltre a ciò era anche molto importante per due motivi. Innanzitutto era uno dei pochi porti importanti dei Romani sull'Oceano Atlantico, ma poi, nello specifico, serviva come collegamento alle città appunto di Essauire e Casablanca, che naturalmente anche loro all'epoca avevano nomi diversi, nello specifico Casablanca si chiamava Anfa, mentre la città di Essauire si chiamava Mogador. Fra l'altro, piccola particolarità, per i Romani Mogador era molto importante perché era un grande centro di produzione della porpora, tinta molto rara all'epoca e che serviva soprattutto per i patrizi romani. Foto sta che tanto era importante sotto i Romani quanto perse completamente l'importanza con il crollo dell'impero romano d'Occidente, tanto che a partire dal V secolo pare che sia stata effettivamente e oggettivamente abbandonata, e le testimonianze sono relative agli arabi che arrivarono qui più o meno nel Settecento e che essenzialmente la trovarono completamente disabitata. Gli arabi, per carità, arrivarono qui, ma prima di vedere dei risultati concreti bisognerà attendere il X secolo. E questo è un periodo molto importante perché di fatto nasce anche il nome della città, e mi spiego un po' meglio. Sostanzialmente qui nel X secolo governano gli Umayyadi insieme alle loro tribù alleate a Masir. Cosa succede però? Che quando gli Umayyadi iniziano a perdere potere in Marocco, inizia a imporsi in questi territori una nuova confederazione, sempre a Masir, ma in questo caso non sunnita bensì a Harijita. Vi rispargo il peppone perché ve l'ho raccontato diciamo più nel dettaglio quando ho fatto il video, il podcast eccetera, relativo alla storia dell'Islam in Marocco che diciamo i Harijiti sono una branca dell'Islam, ok? Però li ripeto, spiego meglio. Vi basti pensare che c'è questa confederazione che prova ad attaccare questi domini degli Umayyadi e quindi gli Umayyadi si mettono d'accordo con i locali per costruire una ribat, ok? Da qui il nome di appunto Rabat. Cosa sono le ribat? Le ribat sono essenzialmente, anzi i ribat sono i forti che venivano costruiti ai confini del Dar al-Islam, quindi del mondo islamico. E se ci pensiamo un po' bene, la città di Rabat è effettivamente il confine di Dar al-Islam perché poi c'è l'oceano, di conseguenza ha tutto un po' più senso da questo punto di vista. Non si sa in realtà bene dove l'abbiano fondata, però visto che le successive fortificazioni saranno tutte costruite sull'attuale Kasbah degli Udaya, è molto probabile che anche appunto questa antichissima prima fortezza fosse stata costruita proprio lì. Fatto sta che tale forte verrà poi conquistato da diverse dinastie, anzitutto dagli Almoravidi, ma poi ancora più importanti sono gli Almohadi. Gli Almohadi anche loro sono molto particolari, molto interessanti e sono legati a tantissimi aspetti anche di fanatismo religioso. Per questo vi consiglio ancora una volta di vedere quel video di storia dell'Islam in Marocco che non è nel crowdfunding, è già disponibile, quindi secondo me può essere molto interessante e chiarificatore da questo punto di vista. Ma dicevo, gli Almohadi arrivano qui, distruggono tutto come al loro solito e a questo punto però iniziano a costruire e sono i primi gli Almohadi che hanno anche un piano vero e proprio per la città. Innanzitutto ovviamente rimettono a posto le mura, ovviamente costruiscono nuove moschee e poi fanno già una cosa molto importante, ovvero costruiscono il primo sistema idrico che naturalmente per una città è letteralmente fondamentale. A questo punto compare sulla scena un nuovo personaggio, ovvero Jakob Mansur. Questo Jakob Mansur in realtà è ricordato principalmente per qualcosa che non è riuscito a fare e mi spiego un po' meglio. Lui, ok, ha costruito anche lui tante moschee, eccetera, siamo tutti d'accordo, ma ne voleva costruire anche un'altra, una moschee bellissima, una moschee immensa, una moschee della quale oggi non c'è rimasto niente. O meglio, non niente, quasi niente. C'è rimasto solo ed esclusivamente il minareto di questa possibile moschee, diciamo, di questa moschee che non è mai stata ma che doveva essere, ovvero la Torre di Hassan, che non ho capito fra l'altro perché si chiama Hassan. Pare non ci sia una spiegazione vera e propria. Il fatto sta che quello è l'unico monumento di questa moschee che doveva essere e che è ancora lì e che ancora oggi fa parte dello skyline, appunto, di tutta la città di Rabat. Naturalmente, come al solito, crollano gli al-Mohadi, arriva una nuova dinastia, ovvero quella dei Merinidi. Ma qui iniziano un po' a cambiare le cose, leggermente, non di tanto, però in maniera sempre più significativa. Perché? Perché in realtà i Merinidi non se ne cureranno proprio di questa città. o meglio, si cureranno della sua gemella. E qui vi devo spiegare una cosa. Sostanzialmente, la città di Rabat ha come confine a nord il fiume Bourg-Ragat, ok? Questo fiume è essenzialmente il confine fra la città di Rabat e la città di Salè. Città che, fra l'altro, ha ereditato il nome dall'antica Sala, quell'antica città romana, e che, per lunga parte della storia, in realtà, fu lei la città principale. Oggi, di fatto, Salè è una città agglomerata, o meglio, agglomerata, una città che dipende essenzialmente da Rabat, però, anticamente, era il contrario. La città più importante era Salè. E adesso ve lo vedremo piano piano, in sempre più casi. Fatto sta che, quindi, i Merinidi si curano di più di quella città, ma va detto che, comunque, qualcosa a Rabat costruiscono. Perché, ad esempio, costruiscono la grande moschè di Rabat e, oltre a questo, fanno la necropoli di Cella, che, essenzialmente, è veramente molto vicino alla città di Rabat. Pare proprio di 6 km, ho visto una roba del genere, ma, comunque, nel caso, apparirà qui, diciamo, più nel dettaglio. Con il crollo dei Merinidi, in realtà, queste due città, parlo a livello plurale, perché adesso vedrete, passano un po' nel dimenticatoio. Nessuno se ne cura troppo, passano i guattassili, avevano altri grani, quindi non si interessano troppo della faccenda, passano i saadiani, non se ne sa quasi niente, eccetera, e dall'inizio del crollo dei saadiani, che avranno un problema di dinastia, come sempre, appunto, nella storia del Marocco, inizieranno a esserci cose interessanti. Perché all'inizio avevo parlato di una repubblica corsara. Ecco, la repubblica corsara nasce essenzialmente proprio in questo periodo, ovvero nel periodo in cui la dinastia saadiana, tutta una serie di problemi, non riesce più a controllare il paese, e qui arrivano dei moriscos. Questi moriscos erano stati espulsi nel 1609 dalla Spagna e nel corso del viaggio per recarsi in Marocco avevano anche fatto tanta amicizia, diciamo, con altri moriscos e quindi si erano allargati, tanto ad arrivare più o meno a 15.000. Questi decidono che la loro nuova casa sarà l'attuale città di Rabat. E quindi iniziano ad arrivare in questa città e approfittando appunto del caos generale fanno la loro repubblica, ovvero la repubblica di Bu-Regraga. La repubblica di Bu-Regraga si chiama così proprio perché all'interno di questa repubblica era presente sia la città appunto di Salè sia la città di Rabat. Quindi essenzialmente le due città che poggiavano su questo fiume chiamato Bu-Regraga. E uno mi dirà, ok, ma non è una repubblica corsara, tu ci hai detto repubblica di Bu-Regraga. Aspetta, in realtà questa repubblica più che il fiume fu nota, diciamo, a lungo perché era proprio la sede invece dei corsari. Nello specifico c'è un personaggino veramente molto interessante che ha dato proprio vita a questa repubblica a 360 gradi, ovvero Jan Jansson. E uno mi dirà, oh, che nome strano, ma io mi aspettavo, non so, Adel, Mohammed, quali... Aspetta, perché questo Jan Jansson è essenzialmente uno dei più grandi pirati di tutta la storia del Mediterraneo che in origine era olandese ma poi per una serie di motivi venne catturato appunto dei corsari marocchini. Si recò in Marocco, si trovò molto bene, cambiò il nome e acquisì quello di Murad Reis e divenne oggettivamente uno dei più grandi pericoli per tutte le navi che appunto non erano legate o al mondo islamico anche se anche lì non penso che fosse proprio un jantan con tutti i musulmani dipende da quanti saldi avevano e poi in generale sicuramente agli europei tanto che gli inflisse tante perdite anche significative. Ovviamente questo non è l'unico personaggio e non ne parlerò profondamente anche se mi piacerebbe veramente tanto perché ho già parlato tanto tempo fa del rapporto fra Olanda e il mondo islamico e questo è un personaggio oggettivamente molto interessante come tanti pirati dell'epoca a specie, ma andiamo avanti. A un certo punto questi territori vengono finalmente conquistati da una dinastia marocchina che riesce a mantenere il controllo ovvero gli Alaouidi che è una dinastia molto importante per tanti motivi come stiamo per scoprire ma uno dei quali è molto semplice da dire ovvero è l'attuale dinastia che governa in Marocco e lo governa dal 1666 veramente veramente tanti anni. Quindi vi dicevo conquisteranno questo territorio smetterà di esserci questa repubblica ma ecco le azioni piratesche anzi corsare verranno assolutamente tollerate tanto che bisognerà attendere veramente tanti anni prima che ciò venga bloccato definitivamente. Fatto sta che gli Alaouidi non è che semplicemente diciamo prendono questo territorio e dicono ok voi corsare potete fare quello che volete beh noi comandiamo fanno anche delle cose molto interessanti quello nello specifico che farà più cose interessanti diciamo così è sicuramente il re Muhammad III che io ormai soprannomino il re costruttore perché praticamente è un tizio anzi un sovrano marocchino che aveva molta voglia di costruire perché lo si vede buona parte delle città marocchine hanno almeno qualche cosa di importante costruito da questo re vi faccio un esempio la città di Esawiria dopo un terremoto venne quasi distrutta e quindi arrivò lui che la fece da capo ok nello specifico in questa città fece un luogo che ancora oggi è estremamente importante ovvero il Dar al-Makhzen meglio noto come il palazzo reale appunto dei regnanti marocchini dei regnanti marocchini peraltro come vi dicevo ancora oggi sotto i alawidi fra l'altro verrà costruito anche qualcos'altro di interessante ovvero il Mellà cosa sono i Mellà? i Mellà sono essenzialmente i quartieri ebraici all'interno del mondo marocchino il più importante il più storico è sicuramente quello di Fez che è anche il primo Mellà della storia del quale ovviamente vi parlo più approfondamente nel video di Fez quindi vi invito a dare un occhio ci tengo soltanto a specificare una cosa Mellà non è sinonimo di ghetto perché il termine ghetto in italiano ha un connotato un po' dispregiativo un qualche cosa di brutto mentre i Mellà all'interno del mondo marocchino erano semplicemente i luoghi dove viveva la maggior parte degli ebrei poi per carità qualche volta vennero incoraggiati diciamo così a ricararsi in quei luoghi ma per lo più la cosa fu estremamente pacifica e anzi è noto che il Marocco ha un enorme rapporto di amicizia storico col mondo ebraico fatto sta arriva a questa dinastia fa queste piccole cose comunque molto importanti e poi passano degli anni passano ancora e si arriva fino al 1912 al trattato di Fez trattato con il quale il Marocco di fatto diventa un protettorato francese e a questo punto fa la sua comparsa Hubert Liautai che fu il governatore il primo governatore francese del Marocco e lui è particolarmente noto lo racconto tutte le volte per diversi motivi uno perché rispettava molto i musulmani quindi impedì a tutti i non musulmani di entrare nelle moschee ma ancora di più perché lui essenzialmente aveva il compito di urbanizzare il Marocco di dare alle città antiche dei quartieri nuovi dove potessero vivere gli europei e le persone più ricche di fatto del paese solo che lui tutte le volte si occupò scientificamente di farli per carità questi quartieri ma farli fuori dal centro storico nella città di Rabat è un po' più complicato perché è oggettivamente una città fatta in maniera un po' strana tra l'altro non è enorme anche se è abbastanza abitata e quindi trovò una soluzione creativa però ecco a prescindere da questo Hubert Liautai è molto importante perché è il primo all'interno di tutta la storia marocchina che sposta la capitale che da quel momento non sarà più o Fez o Marrakesh o McNess che lo fu comunque per brevissimo tempo ma lo diventerà proprio Rabat e da quel momento in poi la capitale del Marocco sarà sempre Rabat perché facciamo ancora qualche salto in avanti nel tempo arriviamo fino al 1956 anno in cui appunto il Marocco diventa indipendente diventa indipendente sotto Mohammed V e quest'ultimo sceglie essenzialmente di lasciare la propria capitale proprio a Rabat in realtà poi se andiamo avanti non è che ci siano tutte queste informazioni nel senso che al giorno d'oggi Rabat comunque è una delle città più importanti del Marocco per carità non è la più popolata in assoluto per nulla però è sicuramente considerata la città reale proprio perché ancora oggi il palazzo reale all'interno di Rabat ha un peso specifico non indifferente ed è proprio il centro più assoluto all'interno del Marocco per quanto riguarda la monarchia detto ciò il video di oggi finisce qui vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al crowdfunding per avere anche la storia di Marrakesh e di Esawira e di Casablanca in anteprima oltre a tutta una serie di altri contenuti e noi ci vediamo alla prossima vi anticipo che non ho la più palida idea di cosa uscirà come prossimo video perché questo fa parte della serie diciamo legata al Marocco in futuro credo che ci sarà qualche cosa legato al nuovo argomento che io penso alla fine sarà l'Algeria però non ne ho la più palida idea perché vi ripeto anzi vi ripeto ve lo dico adesso sto registrando il 9 gennaio proprio per portarmi avanti cioè io vi saluto veramente e noi ci vediamo alla prossima